Per che squadra facevi il tifo da bambino? Tutta la famiglia era bianco-blu, però tranne me e mia madre che mi ha fatto subito innamorare dell'Hockey Club Lugano, venivo già da piccolo a venire le partite. Come andavi a scuola? Qual era la tua materia preferita? No, a scuola sicuramente non ero bravo, materia preferita, ti tirai ginnastica, però anche lì non rigavo dritto. Se non avessi fatto il giocatore di hockey, che lavoro avresti fatto? Penso a un altro sport, lavorativamente al momento non mi vedo. Qual è il momento più bello della tua carriera? Sicuramente il debutto alla Berna Arena, mi ricordo che avevo giocato il venerdì con gli Elite proprio a Berna e nel viaggio di ritorno mi ricordo che Juras mi aveva chiamato per andare a fare l'esordio in prima squadra a Berna e poi sicuramente il primo gol in Serie A a Davos. Che canzone ascolti prima delle partite? Mi ricordo quando c'era ancora la vecchia guardia, la vecchia guardia si ascoltava tanto ACDC e Guns and Roses e adesso ci siamo spostati un po' più sulla Tecno, sull'House. Nel tempo libero cosa ti piace fare? Mi piace molto pescare, mi piace stare nella natura, mi piace molto anche andare a giocare ai funghi e stare con amici. Qual è il tuo piatto preferito? Ah, io sono molto molto carnivoro, però mi piace molto anche quando vado soprattutto in località dove c'è il mare, dove c'è il lago, anche molto spaghetto lo scoglio. Chi è il più intelligente? Arco, Arco, Arco. Penso che è veramente incredibile come ha imparato l'italiano in questi due anni. C'è gente che a Lugano da più di dieci anni non parla una parola di italiano e lui si applica molto e poi è un tipo molto sveglio. Tra i tuoi compagni chi è sempre in ritardo? Non c'è nessuno specifico che arriva in ritardo. Sì, magari Cono è arrivato un po' in rivolta in ritardo, ma non penso per colpa sua perché deve ancora imparare com'è il traffico in Ticino, soprattutto verso le 5 del pomeriggio, però non c'è nessuno che tende ad arrivare spesso in ritardo. Chi passa più tempo davanti allo specchio? Ah, lui ha fatto il minuto? No. Penso di sì, penso sia lui, anche prima della partita deve sempre fare la sua doccia, deve sempre mettersi lì, è tutto il bello lucido per giocare, quindi direi proprio Marco Millo. Grazie a tutti.